L'eternità del mondo, una riflessione di Sant'Omaso d'Aquino. All'interno dell'incredibile produzione letteraria di Sant'Omaso d'Aquino si trova un breve ma celebre opuscolo intitolato De eternitate mundi, l'eternità del mondo, composto presumibilmente fra il 1270 e il 1271. Scopo dello scritto è esaminare se la creatio ab eterno, ovvero sia letteralmente la creazione del mondo da tutta l'eternità, sia una tesi sostenibile dal punto di vista naturale, ricorrendo cioè ad argomentazioni razionali. Dal punto di vista soprannaturale, quello della fede, il problema infatti è già immediatamente risolto. La dottrina cattolica insegna che la creazione è contrassegnata dall'impronta del tempo, possiede un'età limitata che la scienza naturale è chiamata poi a indagare. Possiamo però chiederci se unicamente a titolo di esperimento mentale, per così dire, la tesi della creazione del mondo dall'eternità implichi contraddizione o meno. Orbene, è innanzitutto necessario chiarire che dalla prospettiva filosofica, ontologica precisamente, l'eventuale eternità del mondo non sarebbe comunque un'eternità in senso pieno, paragonabile a quella di Dio. Se anche l'universo fosse eterno, infatti, in esso avrebbe comunque luogo la successione di eventi e movimenti, nonché la dinamica tipica delle cose materiali fra potenza e atto, cose potenziali che divengono attuali, cioè il mutamento, la generazione e la corruzione degli enti. Anche in un universo eterno, quindi, vi sarebbe tempo. Tutto ciò è assente nell'eternità divina, ove non vi è movimento, non vi è mescolanza di potenza, essendo Dio, insegna già Aristotele, atto puro. Dio non ha motivo di muoversi verso alcunché da acquisire, essendo pienezza dell'essere, l'essere stesso, la perfezione assoluta. Scrive Severino Boezio nel De Consolazione Filosofie, della Consolazione della Filosofia, che l'eternità divina è interminabili svite tota simul et perfetta possessio, ossia il possesso perfetto, totale e simultaneo di una vita interminabile. L'eternità divina è senza principio e senza fine, esclude ogni successione, esistendo essa tutta assieme. Ciò non potrebbe mai caratterizzare l'universo, nemmeno se fosse eterno. L'angelo stesso, che è forma priva di materia, non è comunque immutabile in senso pieno, essendo una creatura tratta dal nulla, dunque dotata di principio, e che persevera nell'essere soltanto perché Dio la conserva. Si considere comunque, insegna lo stesso Tommaso nella Somma Teologica, che l'uomo non potrà mai ottenere una conoscenza appropriata dell'eternità in questa vita, dovendo egli giungere alla conoscenza dell'eternità a partire dalla conoscenza del tempo, che è misura del movimento. Torniamo al De eternitate mundi. Tommaso scrive di accantonare immediatamente il pensiero di un ente eterno accanto a Dio, se con eternità, eterno, si intende qualcosa di coeterno a Dio, ma da egli non creato. Non è però adesso questo il punto della discussione, bensì, scrive il santo, esaminare se una cosa sia esistita da sempre, ma causata da Dio in tutto il suo essere, per vedere se sia una tesi sostenibile. Ora, dal punto di vista metafisico, è chiaro che l'unica cosa che Dio non può fare è la contraddizione, come per esempio, citando Sant'Agostino, pretendere che Dio faccia in modo che le cose che sono state non siano state, il che equivarrebbe a pretendere che Dio facesse sì che le cose che sono vere, nel senso di accadute, successe, siano false, nel senso di non accadute. Non è negazione dell'onnipotenza questa, perché Dio è onnipotente in quanto può fare tutto ciò che è possibile, ma al contraddittorio, a ciò che implica contraddizione, manca la natura dell'essere possibile, dell'essere fattibile. Il punto è quindi esaminare se essere creato da Dio in tutta la propria sostanza e non avere avuto inizio nel tempo, siano asserzioni tra loro contrastanti o meno, dice Sant'Omaso. È evidente che non sono contrastanti, poiché un eventuale contrasto dovrebbe fondarsi su una contraddizione, ma tale contraddizione non sussiste. Non è infatti contraddittorio ammettere che una causa non preceda il proprio effetto anche nel tempo. La precedenza fra causa ed effetto, infatti, deve per forza essere ontologica, ma non necessariamente cronologica. Quindi nell'essere, ma non necessariamente nel tempo. Scrive Tommaso, nello stesso istante in cui si pone l'esistenza di una cosa, se ne può porre anche il principio di attività, come risulta chiaramente in tutte le cose soggette alla generazione, perché il fuoco, nello stesso istante in cui inizia a esistere, riscalda. Ma nell'operazione istantanea, inizio e termine sono simultanei, anzi identici. L'esempio è chiarissimo. È possibile che nel momento in cui si ponga la causa, in questo caso la fiamma, il fuoco, si ponga immediatamente anche l'effetto, in questo caso il calore sprigionato dalla fiamma. La precedenza cronologica non c'è, quella ontologica sì, già che non può esservi il calore senza il fuoco. Ma appena il fuoco è, il calore anche è. Si consideri poi che in relazione a Dio l'effetto non si produce tramite un qualche movimento. Dio è una causa agente per volontà e non è necessario ancora una volta che la volontà preceda l'effetto nel tempo. Inoltre, scrive il dottore Angelico, se si dà una causa per la quale, nello stesso istante in cui viene posta, è impossibile porre anche il suo effetto, ciò dipende soltanto da un difetto che la rende imperfetta. Infatti, la causa perfetta e il suo effetto sono simultanei. Ma a Dio non manca mai nulla per la sua piena perfezione. Dunque, posto Dio, è sempre possibile porre il suo effetto, per cui non è affatto necessaria una sua anteriorità nel tempo. Lo stesso concetto di creazione dal nulla, poi, non va inteso come un movimento quasi che prima fosse il nulla e dopo il mondo. Nessuna necessità quindi che la creatura prima sia stata nulla e dopo sia divenuta qualcosa. Non vi è precedenza cronologica del nulla e anche ritenere che una creatura sia sempre esistita non significa peraltro ritenere che essa in un qualche tempo sia stata nulla, ma solo che, scrive Sant'Omaso, la sua natura sia tale per cui, abbandonata a sé stessa, sarebbe nulla. Come se dicessimo che l'aria è sempre stata illuminata dal sole, dovremmo dire che l'aria è sempre stata resa luminosa dal sole, e togliendo il sole si toglierebbe la luce. Così, dunque, risulta chiaro che quando si dice che una cosa fatta da Dio è sempre esistita, non vi è contraddizione. Sant'Omaso completa poi l'opuscolo con altre considerazioni che non interessano direttamente il tema da noi trattato. Vale comunque la pena ricordare che per la dottrina cattolica il mondo è stato creato dal nulla liberamente, per libera volontà del creatore, e che il creato possiede un'età limitata. Dio non è soltanto creatore, poi, ma anche conservatore dell'essere di ogni ente. Quanto alla questione dell'eternità, infine, Dio non soltanto è eterno, ma è anche la sua stessa eternità.